Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MOTALON CHANGE Bene ho controllato ed era... Dove eravamo prima in pratica Non avevo visto una strada, vabbè adesso vado a mettere il punto che dicevo Lo metto qua perchè non si sa mai Siamo a livello 99 ragazzi Vabbè, allora, il lago di magma è che non mi veniva Devo salire qui E per fortuna ci sono i video perchè porca miseria non si capiva bene nel forum però Qui, devo andare qua Scendere giù E aspettare un boss che sarà andato in culo come al solito Così boss Qui Va bene, 5 siriche E siamo già andati perchè... No non siamo andati Però c'è uno schigno aperto Quindi o sono passato o non mi sono accorto cosa molto probabile Preso poi sono andato via Dove andiamo qua? Ma io qua sono passato Allora... Devo semplicemente scendere qua, devo capire come Ehm... va bene Va bene Va bene Va bene Che miseria Mi sfugge una strada che è facile Come al solito sono cieco Ma secondo me qua non c'è altra scelta Va bene, andiamo Ok Scusate ma... Questa parte Ho sempre io eh Ok È andata proprio bene No che c'è No che c'è anche il cecchino Madonna quanta brutta gente c'è qui Ok Eh lo so Lo so Non mi fa curare Cosa devo fare? Non posso mica pregare Non posso mica pregare eh 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 Cioè Poi Vi ho detto che dovevo scendere Qua Mi sono di nuovo dimenticato Ma dai, è possibile che sono così di coglionito Eccoti qua Ecco qua Ok Ci siamo Senza morirci Grazie Lo gradirei in modo molto particolare Ok Ok Vai Ok Ce ne siamo tolti uno dai piedi Evocatore subito Ho quest'arma come lo adoro Ok Tu o anche tu muori Un altro evocatore qualcuno l'è evocato Stardi chi è stato non lo so Deve se c'è un altro Se no no ce n'è un altro Devo assolutamente capire chi è Eh ciao Chi è? Dov'è? Uno l'ho trovato Come avevo detto C'era quello che evocava quello sopra Quello sotto E tutti quelli la Perciò ho detto Devo Ah Eh no È un dito in culo ragazzi Un dito in culo Mmm Allora devo andare verso la caverna Devo fare solo questo Perché se no è un casino Devo ammazzare tutti E vedete che uno evoca l'altro Ed è un cazzo di cazzo di cazzo di casino Che dovrei uccidere tutti quanti Ed è un lavoraccio Ed è un lavoraccio Va bene dai saliamo Che siamo con la vicenza capite? Eh dopo è un casino Io devo andare esattamente Vi faccio vedere dove Così almeno ci capiamo Allora Andiamo giù Dovrei andare esattamente Dovrei andare esattamente Laggiù Devo andare laggiù Perché laggiù c'è il boss Quindi io devo capire come fare Allora Eh Allora Eh cazzo però Mi son perso di nuovo Pfff Che palle Stare di merda Sto pensando se potevo buttarmi Tanto ormai ho perso Per perso Anche qua non lo so Se alla fine Mi fa andare Sto pensando Devo andare lì Sì in teoria sì dai Allora corriamo eh Adesso quelli che ho perso Perso a me Ok Ok Andiamo Io ho rollato Ma lui col cazzo Mi ha risposto È andato bene a fanculo Il roll serviva molto Vabbè Eccoci qua Ce l'abbiamo fatta Una cura Non c'è verso eh Da un portale all'alto La cura la devo usare sempre Ok Ci siamo Spero ci sia un portalo Qualcosa Perché Non ce la faccio più Vediamo un po' Qui dove si va Vedete che si va al boss Al portalo Sì 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 Oh Blochiamo il viaggio E tanti saluti Ok Adesso posso Agire con tutta calma Tranquillità E andare a questo boss Vedete se c'è qualcosa qui magari La produzione è sempre più importante Perché grazie a quello che troviamo le armi Se no E' una volta che non la facciamo E' una volta che troviamo Non troviamo l'arma giusta Volevo fare Guarda il pirla Questa arma è fantastica Ho preso una cura Meno male Allora Qui Non è che mi piace molto St'acqua Allora vediamo un po' di prendere questo Ok Componente avanzato Vediamo se c'è lì Siamo andati Là siamo venuti Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Allora dobbiamo andare qua Va bene Lo salve Come mi entusiasma questa arma ragazzi Tanto Potenziata al massimo Per carità Quindi più di così non fa Però Almeno Ho visto qualcosa Vediamo pure Ok poi ha molte più munizioni Insomma Un'altra coscia Non c'è niente Qui ovviamente Qualcosa che non abbiamo Io questi portali Non me li ricorderò mai Dove sono tutti sparsi Ecco il boss Siamo pronti a perdere 21.200? Ovviamente sì Andiamo un po' E non ho idea di come farlo Quante volte moriremo? Chiediamo a indovinare Diciamo 5 Ma forse 6 dai Ecco Facciamo di più di 5 o 6 Oh Questa mi è andata Ah non lo sapevo mica Ma munizioni sorpresse Che cazzo Salve Ok Bello 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 Io carico Carico sempre perché non so Non mi da da loccare Cos'è tutta sta roba? Oh grazie Oh beh Niente più no Perché mi hai dato poca roba C'hai Devo stare attento a così poche cose Che potrebbe essere ancora utile Ok Munizioni è completo Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Mi ha ridato le munizioni Questo mi da munizioni Per carità eh Anche Oh mi ha fatto prendere un colpo Che cazzo però non è giusto Eh non me lo aspettavo Questo ha un sacco di attacchi Ah dunque Ok Quello è un bonus Per più delle munizioni Da quello che sembra La frustata Quelle radici Sono da buttare giù Più c'è quello la Ok ho capito dai Se ha finito lì Dovrebbe essere abbastanza semplice Vediamo Ok Ok Bene Ah dicevo sentivo camminare Ho detto che cazzo è? Ok Andiamo Io nell'acqua non ci vado Scusatemi Ma sapete ma Ah ce n'è un altro là Ma sì ma Può anche rimanere lì Ok Corriamo al boss Ho fatto tanto che la strada Non è incastonata di Tempestata di mob E vediamo come farlo Non sembrerebbe così Non ho ancora capito Come colpirlo Questo è chiaro È chiaro che sono tornato indietro È chiaro che sono un pirla E tutto il resto Vabbè a dopo Eccoci qua Va bene Vediamo bene Vediamoci i nostri 10.000 Ok Calma eh Ok Piacere Comedia tutte munizioni Per carità eh Infatti questo non me lo fa locare Quindi Beh non è difficile Non è volevo dire Non è dura A livello Oh guardate Guardate Eh che cazzo Non me lo aspettavo però Eh vabbè dammi tempo però Ok Ok Mamma mia quante munizioni E adesso Ok Ok Ma basta una volta sola Eh vabbè Ho la volta Non me lo locava ragazzi Cosa devo fare? Ok Curiamoci va chi è meglio Non si sa mai Eh non Non carica Cosa ci devo fare se non carica? Non carica Eh Questo non vorrei che lo Locca Porca vacca Che cazzo Che sei Eh vabbè Quando ci si mette poi Non mi locca ragazzi Non mi locca Cosa devo fare? Eh Eh E riproviamoci Siamo alla terza Eh Vediamo se riesco ad arrivare al 7 Secondo me Voglio molto di più però Siamo finta di Ok Adesso non mi frega più niente Basta Eh O mi locchi troppo O non mi locchi un cazzo Ok Ok Vabbè tanto comunque Posso prenderlo Ok Fatto Adesso In teoria devo prenderlo 4-5 volte Se è così È il danno che faccio Ti ha dovuto fare qualcosa? Posso? Ok mi fa piacere Eh io però ti stavo sparando eh E direi anche morto praticamente Ti danno che ti ho fatto Eh Se l'andete in culo Vabbè Cos'è la quarta? La quinta? Non mi ricordo neanche più Basta Ormai Sono andato Ovviamente Carica Ok Ancora sti cosi? Eh sì tutti insieme Mi ha bloccato Mi ha bloccato Mi ha bloccato Mi ha bloccato Eh vabbè Allora adesso Basta perché Mi avete rotto Ok Guardata È perché È perché Devo guardare davanti Devo guardare indietro Non è che Io abbia tanto Spazio Da Eh 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 Non ho bloccato niente Niente Per l'ennesima volta Allora Non so dove mettermi E purtroppo Non so dove mettermi Un punto Muovimi spesso Non ne ho proprio idea Vedete che Più o meno i colpi erano gli stessi Ok Devo muovermi spesso Adesso io ce la cura Non mi frega niente Vediamoci spesso Carichiamo spesso Ok Ok Questo l'ho evitato almeno Carichi siamo carichi Spariamo Abbiamo sparato Carichiamo Ovviamente l'ho preso in pieno Mi sembra ovvio Ovviamente Ok Perfetto Ok Carichiamo Vita ce l'abbiamo Allora questo devo capire se Effettivamente Ok Basta con questi Stronzi bastardi Eh ovviamente Tutto Tutto Deve caricare Deve fare tutto Ok Ok Data Adesso Via così Ma Carico è la troia Niente eh Ok Non ci ha presi Non ci ha presi Intanto Sono sicuro che muoio qua Perché È troppo Imprevedibile Ah Detto io Questo mi faceva il culo No Cosa fai? Cosa stai facendo? Imbecille demente Cosa stai facendo? Ah Santa miseria Eh Eh ciao Eh porca miseria Ci si mette il lock È proprio bastardo eh Tu non mi servi Già più Ok 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 Data Ok Anche questa Quindi è così Andiamo avanti così La possiamo così fare Voi non mi piacete Lo sapete Ok Vendilo Ovviamente Io stavo curandomi però Porca miseria Cazzo Allora posso stare zitto A vedere se riesco A migliare qualcosa L'ho preso eh L'ho preso L'ho preso bastardo Ok Miseria Coro scemo Ma la scemo una volta Forse Che due Ho fatto prendere il culo Eh Cazzo Cazzo Fogliato E va Ok 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 Dai perdilo Una mira di merda Come al solito Ok Porca trolley Dai 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 Ok Allora proviamoci Ok Ok Come è Non mi interessa Eh Non mi fa passata Ok Una volta Faciamole tutte Io sei sicuro anche Porca miseria Quei baffetti e tutto il resto Ok 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 ti ho visto eh Ok vai così Ok perfettico Non dico che ce la sto facendo Però Però Ti sto provando Diciamo così Chi ci sto provando Vai Vai Proviamo subito via Perché c'è quello stronzo Che sta arrivando Tanto così che fa Ok adesso Perfetto Ok Andiamo così Due Due E non me lo aspettavo eh Ok Ovviamente Togliti da cazzo Loc di merda Che vaffanculo Mi deve sempre far incazzare Sto Loc Ecco Ovviamente Tutte 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 quante adesso Tanto chi se ne frega Vero? Non c'è verso Benissimo Vai vai Continua così eh Che sei complimenti Forca di quella troia Che si può essere più sfigati Io non lo so Eh vabbè Allora Corriamo subito via Corriamoci Ecco il cazzo mi curo Ecco cosa mi curo Ovviamente Allora Ce l'ho fatta Mamma mia Ho fatto Abbattitore il ciment Mamma mia Ragazzi Veramente Un dito in culo Ce l'abbiamo fatta Anche questa Ah Vabbè proprio per un pelo Secondo boss ha battuto Eh Quindi Prendi il cuore Uff L'ho fatto Non l'ho mai tagliato Cioè nel senso non l'ho mai Fatto una tre senza fare Almeno un minimo di prova Quindi Vorrebbe contare quante ne ho fatte Sei sette più o meno Eh vabbè Pazienza Andiamo a vedere cosa ci ha dato Finalmente Non ci credo Ehm Un mita che scala ovviamente Con quello che non ci interessa Oh mi ha dato un corso per potenziare Questo Mi può interessare Cian 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 Quello la Un cian cian Non lo so Quello lì Oh cazzo C'è nient'altro da prendere No eh Posso andarmene via tranquillamente Cosa vuole questo Questo mi ha seguito fino Ok Morici Mamma mia Abbiamo un bel po' di punti Adesso andiamo subito a spendere Il nostro belisco E se no Non si sa mai qui A finire tutti sti soldi Eccoci qua Dovrebbe essere qui Che si saliva Si Ho fatto così tante volte Per arrivare al boss Porca miseria Eccoci qua Vediamo se riesco a puntare un punto Voglio vedere che cos'è Vediamo se ho sbloccato Vediamo se ho sbloccato Non mi ricordo anche se ho sbloccato il viaggio Sì l'ho sbloccato Vediamo quella No scusate quella Arma Provo Novità Non è che è tanto difficile da trovare Una piccita novità Eccola qua Wow Leggendaria Questa 38 Non ho 18 dell'altro Quindi niente Peccato E comunque fa di meno di quello che ho Poi scala in speciale No Va bene ragazzi Io direi che ci possiamo fare qui Per questo è tutto Io vi invito come al solito Se vi piace la serie E fammi sapere appunto cosa ne pensate E per adesso vi invito a saluto la cima Ciao ciao